benvenuti amici dall'orto ai fornelli oggi vi faccio vedere come fare un delizioso gelato salutare senza zuccheri aggiunti o grassi aggiunti solo con la frutta avremo bisogno di banane mature più sono mature più verrà dolce sarà digeribile gelato dovremmo affettare queste banane e congelarle per almeno 10 ore ora mettiamo le banane in un contenitore e congeliamo ok ragazzi il tempo è passato e le banane sono definitivamente congelate adesso ora se non abbiamo un frullatore molto potente è meglio lasciarle fuori per almeno 10 minuti mettiamo le banane nel nostro frullatore e ora frulliamo guardate come sta avvenendo anche se il frullatore non è molto potente aggiungo poco poco d'acqua e continuo a frullare ecco qua guardate quanto è fermo il sapore è delizioso allora adesso questa è la base potete aggiungere quello che volete altri tipi di frutta per esempio fragole frutti di bosco li trovate anche congelati io sceglierò come gusti cacao amaro dei datteri come dolcificante e granella di nocciole molto semplice allora aggiungo un cucchiaino di cacao forse anche un po' di più a me piace un po' amaro i datteri e poi le nocciole le aggiungo dopo guardate qui non potete capire buonissimo bene amici siamo pronti con la prova a saggio ma è buonissimo tre ingredienti datteri, cacao, banane scusate quattro anche la granella di nocciole però semplicissimo fate in cinque minuti salutare tutti i dolci dovrebbero essere così che più ne mangi e più ti fanno bene avete qualche idea per personalizzare il gelato di banane? se è così lasciate un commento qua sotto se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima ciao ciao mmmm